Poche centinaia di euro come bottino dell'ennesima rapina messa a segno dalla banda dello scooter a farne le spese per la seconda volta dopo il colpo del 30 gennaio scorso il supermercato doc di Viale Belgio nel rione Bozzano di Brindisi. Una dinamica veloce ed efficace è quella messa a segno dai due malviventi che si sono introdotti all'interno dell'esercizio commerciale nel quartiere periferico della città. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che due giovani con il volto travisato dal casco e entrambi armati di pistola intorno alle 19.30 si sarebbero introdotti nel supermercato intimando alla cassiera di aprire le casse e minacciandola di spaccare la testa. A quel punto avrebbero arraffato l'incasso e sarebbero fuggiti subito dopo a bordo dello scooter. Al momento della rapina avvenuta in un'ora particolarmente tranquilla c'erano solo pochi clienti all'interno del supermercato che non si sarebbero neanche accorti di quello che è successo. Sul posto allertati dal personale del supermercato una pattuglia delle volanti, una dei carabinieri e gli agenti della polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso. Serrate le indagini della polizia che ha anche prelevato le immagini delle telecamere a circuito chiuso che hanno ripreso i due rapinatori per cercare di compararle con altre immagini e risalire il prima possibile ai responsabili. Ancora la banda dello scooter, quindi ancora al quartiere Bozzano. A distanza di qualche settimana dalla rapina ad una pizzeria del quartiere periferico di Brindisi, i banditi che hanno seminato il terrore in pizzerie e locali commerciali della città mettono a segno un altro fulminio a colpo.